Nel 2011 i bambini adottati in Toscana sono stati 388, mentre quest'anno in tutta la regione si faticherà a superare quota 310. E su scala nazionale i dati sono anche peggiori, visto che dal 2006 ad oggi il numero di bimbi adottati si è ridotto del 50%. Le ragioni di questo crollo sono emerse durante un convegno organizzato dalla regione a Firenze insieme all'Associazione Amici dei Bambini. Il motivo principale è economico, visto che adottare un bimbo comporta una serie di costi non trascurabili, ma almeno in Toscana esiste anche un problema di strutture. Non ultimo infatto che i centri adozione, cioè dove le famiglie vanno a fare le pratiche, a fare la formazione, dove ricevono l'indicazione dell'idoneità dai servizi, sono troppo pochi perché in Toscana sono solo quattro e corrispondono alle aree vaste della sanità. Ma a fronte di 180 milioni di bambini abbandonati in giro per il mondo, sono ancora molte le famiglie che si vedono negare l'idoneità all'adozione. Per questo la IB ha depositato una proposta di legge in Parlamento che punta a semplificare le procedure e razionalizzare la selezione. La famiglia è una risorsa, non deve essere selezionata come purtroppo viene oggi fatto, ma deve essere accolta, accompagnata fino all'incontro con il bambino. Quindi questo è l'impianto principale della nostra proposta di legge che abbiamo già presentato in Parlamento, far vedere che le famiglie, che chi è padre e madre di un bambino non suo, è già una coppia idonea e come tale va accompagnata e non va scartata.